Ed eccoci in diretta nei nostri studi per continuare a celebrare le eccellenze italiane così come abbiamo fatto a Palazzo Mezzanotte il nostro Le Fonti Awards in questa versione digitale. Oggi ci occuperemo di una realtà che è una vera e propria eccellenza dell'edilizia in particolare ecco il premio io lo voglio ricordare subito è quello di eccellenza dell'anno innovazione e soluzioni di isolamento energetico nell'ambito dell'edilizia e il protagonista di questa premiazione è il dottore Alessio Masini di Decorus al quale naturalmente do il benvenuto e complimenti. Grazie, grazie mille. Ecco dottor Masini dobbiamo parlare innanzitutto della realtà di Decorus leggendo la motivazione ecco ciò che di bello avete fatto per conquistare questo prestigioso riconoscimento perché è stata premiata Decorus? Beh per essere una realtà di successo nel settore dell'isolamento energetico per nanotecnologie per la capacità di proporre soluzioni sostenibili e innovative fornendo un servizio completo che comprende tra le altre cose la consulenza e l'assistenza al cliente e infine anche per la risoluzione sempre repentina di qualsiasi problematica sinonimo di affidabilità e di serietà insomma ecco una motivazione bella sostanziosa corposa che contiene tante parole chiave affidabilità serietà assistenza al cliente ecco innanzitutto un suo commento. Sì intanto volevo ringraziare la mia famiglia lo staff Decorus e tutti i collaboratori che hanno permesso di avere questo risultato inaspettato con questa premiazione e tanti dicono che l'innovazione non significa un cambiamento secondo me invece l'innovazione è l'abilità di vedere il cambiamento come un'opportunità e non come una minaccia l'innovazione significa introdurre una nuova modalità di progettare di pensare di produrre di vendere beni e servizi quindi significa cambiare l'ordine delle cose esistenti per fare in modo che queste cose abbiano un valore aggiunto. Certo l'abbiamo detto e lo ripetiamo sempre nelle nostre trasmissioni che l'innovazione e il progresso va abbracciato e non temuto anche se questo impone naturalmente un cambiamento ecco l'innovazione è una parola particolarmente cara alla vostra realtà alla realtà di Decorus tanto che appunto da settembre partiranno anche in varie città d'Italia dei seminari tecnici sulle innovazioni che state introducendo proprio nel campo dell'edilizia ecco ce ne vuole parlare nello specifico? Sì con diciamo la collaborazione di tecnici specializzati inizieremo da settembre in varie parti di città d'Italia faremo dei seminari tecnici dove spiegheremo ai tecnici non solo i materiali innovativi che stiamo diffondendo ma la cosa più importante di non avere paura nel poter asserarli accettarli e metterli diciamo nei loro progetti in quanto questi prodotti se hanno una certificazione di legge non devono essere temuti per quanto riguarda poi in caso di controlli chiaro ecco abbiamo citato appunto la parola innovazione ma un altro termine chiave sicuramente quello della sostenibilità perché i vostri prodotti si rivolgono proprio a case ad alta efficienza energetica con un occhio sempre attento appunto al risparmio energetico e all'ecologia temi che ci stanno particolarmente a cuore soprattutto in questo periodo di transizione ecologica e possiamo dire quindi che la sostenibilità è un po' il cuore ecco della filosofia di De Corus? Sì infatti si parla sempre frequentemente di sostenibilità ambientale e di corretto sfruttamento delle risorse e di abbassamento delle emissioni di inquinanti un'interazione responsabile con l'ambiente risulta fondamentale per continuare a produrre bene i servizi e nel frattempo salvaguardare quello che è l'ambiente e per questo che molti partner del della De Corus producano con sistemi a bassissimo impatto ambientale e hanno una certificazione che lo attesti si chiama LCA inoltre l'impatto di questi prodotti che essendo anche composti da materiali sintetici fanno sì che questi materiali De Corus abbiano un impatto ambientale molto basso e quindi sono tutti prodotti che non derivano dalla lavorazione del petrolio che fra l'altro può determinare anche con l'andare del tempo l'uso di questi materiali sintetici la formazione di diciamo di allergie e addirittura in casi più estremi anche di malattie per quanto per l'uomo. Chiaro invece ecco voi appunto con i vostri prodotti cercate proprio di ridurre l'impatto ambientale e diffondere anche quindi il benessere delle case e naturalmente anche delle persone che ci abitano sicuramente ecco tutti i settori non solo quello dell'edilizia stanno attraversando un periodo di grande trasformazione di innovazione dettato anche naturalmente dalla rivoluzione digitale dove tra l'altro ecco l'intelligenza artificiale imporrà uno step ulteriore successivo ecco per quanto riguarda l'edilizia come vede il suo settore tra cinque anni abbiamo detto che sicuramente ci sarà un progresso uno sviluppo è difficile fare delle previsioni ma secondo lei quale sarà la parola chiave il fiero rouge che caratterizzerà ecco l'edilizia nel futuro? Sì dunque il futuro dell'edilizia passa attraverso la capacità di stare al passo con un settore che è in continua evoluzione secondo noi il futuro sarà l'edilizia secco con l'abbattimento degli spessori degli isolanti con la loro tipologia nella serie poco spessore grande efficienza per questo la nostra azienda è sempre alla ricerca di prodotti innovativi però con il rispetto ovviamente dell'ambiente e che abbiano le certificazioni secondo le normative attuali per essere utilizzate Benissimo insomma ecco anche questa parola dobbiamo aggiungere per proiettarci ecco nel futuro anche se poi lo scenario veramente si sta evolvendo in tempi rapidissimi io ho detto insomma questa parentesi temporale di cinque anni ma magari ecco nell'arco anche di uno due anni le cose possono cambiare davvero a grande passo grande velocità io ringrazio davvero per il suo intervento Alessio Masini di Decorus ricordando ancora una volta il premio ovvero l'eccellenza dell'anno innovazione soluzione di isolamento energetico grazie ancora e complimenti grazie grazie mille bene si chiude questo nostro appuntamento con le fonti awards io vi ricordo ecco tutti gli altri appuntamenti non solo qui nei nostri studi di cordusio ma anche a palazzo mezzanotte dove continuiamo a celebrare le eccellenze italiane grazie per averci seguito e alla prossima trasmissione e alla prossima trasmissione